Buonanotte. Questa è una notte speciale per il nostro canale, infatti inauguriamo la nuova rubrica di Fatti Veri Production, ovvero Fatti Veri Production incontra il cinema d'autore. Questa sera parliamo di Tokyo Monogatari, il capolavoro del maestro Yasujiro Ozu. Nella breve clip che andiamo a mostrare metteremo in evidenza i punti di contatto tra il nostro neorealismo siciliano e il realismo giapponese del maestro Ozu. Una buona visione.